Immagini di spaccio quotidiano a cielo aperto sotto gli alberi di Campo Marzo ad immortalare il nigeriano che senza alcuna remora scambia stupefacenti per soldi e questa volta la polizia. Immagini che incastrano l'uomo che non potrà sfuggire al blitz che in quel momento è in corso. Droga, marijuana, cocaina, eroina consumata dai tanti tossicodipendenti che hanno fatto di Campo Marzo, la loro zona di acquisto ed anche di consumo, come peraltro un altro video shock della scorsa settimana mostra. Era il 12 settembre questo video di alcuni tossicodipendenti che si drogano tra le giostre della fiera degli otto sotto lo sguardo in difeso dei bambini aveva fatto scalpore. La risposta della questura però non è tardata ad arrivare. I soggetti sono stati immediatamente identificati e devo anche dire non è stato particolarmente difficile perché sono degli abitui di Campo Marzo e ho immediatamente irrogato quei provvedimenti che sono di competenza dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. 70 le volte in un anno che l'uomo è stato controllato per lui essendo residenti in città e esattamente al carcere a San Pio X, nonostante in realtà sia libero di girare per Vicenza, è stato emesso un avviso orale. Per la ragazza, residente in altro comune invece, è stato emesso il divieto per due anni di entrare in città.